L'era Zeman-Biss a Pescara è già realtà. Dopo la svolta in mattinata col tecnico Boemo che ha detto, anzi, ridetto sì al Delfino, l'allenatore ha pranzato col presidente Daniele Sebastiani per definire gli ultimi dettagli e poi si è diretto col numero uno biancazzurro al poggio degli ulivi, anche se per il momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni rimandando tutto alle prossime ore. Insomma, per l'ufficialità bisognerà ancora attendere, ma è altrettanto evidente che la sua presenza al centro di allenamento, insieme al suo vice Cangelosi, lasciano supporre che si tratterà solamente di ratificare l'accordo con Scadenza giugno 2018. Dunque, un anno e mezzo per terminare nel miglior modo possibile questa stagione e iniziare a programmare la prossima, quando sarà lo stesso Zeman a dettare le linee di mercato principali, magari valorizzando nel frattempo la cantera del Delfino, abbassando l'età media di una squadra che dopo la finestra di gennaio ha alzato il tasso d'esperienza. Domenica però potrebbe esserci Luciano Zauri sulla panchina nella gara interna contro il Genoa, questo perché non ci sono i tempi tecnici per fare in modo che Zeman abbia piena consapevolezza della squadra a disposizione, meglio accomodarsi in tribuna e poi avere una settimana intera di lavoro con la Rosa. È evidente che il rapporto e il feeling tra il Boemo e la piazza adriatica non si è mai sopito da quella stagione indimenticabile nella quale il Peschiara, partito in sordina, stupi tutti con un gioco spumeggiante e una promozione a suon di gol che fece gridare di nuovo ad uno Zemanlandia bis. Con lui Verratti, Immobile e Insigne hanno avuto il trampolino di lancio verso una carriera di altissimo profilo, ma ha valorizzato anche Capuano, Romagnoli, Balzano, facendo riesplodere Marco Sanzovini prima dell'addio Amaro a fine stagione. La chiamata della Roma fu troppo allettante per il Boemo, che in giallo-rosso però non ha trovato, la stessa fortuna avuta all'Adriatico, ma quel filo rosso non si è mai spezzato definitivamente, anche quando, con un accordo praticamente blindato, il Pescara gli voltò le spalle per proseguire con Massimo Oddo. E proprio al termine dell'avventura del campione del mondo sulla panchina, riecco ancora Zeman, per un bis che i tifosi sognano già, possa ripercorrere i fasti di quella stagione indimenticabile che riportò il Delfino nella massima serie. Se io non faccio interviste in mezzo alla strada. Almeno una sensazione. Solo una sensazione. Così almeno. Sensazione? Ho visto giocare... Viste? Viste. Viste.